Presidente, scusami, allora oggi che giornata sarà? È una giornata in cui si parlerà del rapporto sulla competitività in Europa. Chi ha perso un micro? Chi ha perso un micro? Sono diventate ancora più urgenti al settore tecnologico. Insomma, ci sono grandi cambiamenti in vista. In vista. Il signor Presidente è molto benvenuto in Cina. Sono molto rieto di incontrarvi. Molto benvenuto in Cina per questa vista di stato. Grazie molto Presidente. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti.